Sono qui in cucina per fare la nostra pasta ai pomodorini gialli che poi non ho mai fatto un video di cucina Novità Dovrei cucinare con mamma ma sta decidendo ancora se farsi vedere o no quindi ti fai vedere Nel frattempo vi porto con me a scoprire gli ingredienti Ingrediente principale, non so spiegarmi perché mi piacciono più i pomodorini gialli che i rossi ma dovete prendere loro Abbiamo i nostri tortiglioni che mangeranno tutti per colpa mia perché mi piacciono un sacco a me Ovviamente c'è la nostra aiutante che andò bellissimo Mi ha portato la fantastica burrata Buonissima A piacere saldo Arvi Ciao Abbiamo iniziato a mettere la nostra pentola sul fuoco e gli ingredienti sono tutti lì Ho messo l'aglio, ora Yolanda mi dà pasta con l'olio Allora a noi non piace abbondare comunque, cioè devo dire che siamo molto fit in questa casa E quando mi vuoi dire basta? Un'altra cosa sicuramente Veramente Così tanto, non me l'aspettavo, cioè per noi è tanto E mentre facciamo soffriggere l'aglio, cosa facciamo? Cosa fai? Tagli i pomodorini che adesso... A spicchi di quattro? Sì Come sono precisa io domani stiamo ancora qui L'aiuto io Allora io diciamo che a Napoli non cucino mai, però a Milano sì, quindi sono capace Sei finta che non sai cucinare? No, è che io lo faccio per esigenza Allora mentre io ho tagliato due pomodori, mamma mia ho tagliato i dieci per questo io non cucino mai a Napoli Perché se non mangiavo dopo 8 anni e qui mi... Stavo dicendo che io ho i miei tempi per fare le cose e quindi ho i miei tempi anche per mangiare Nessuno mi mette fritto e quindi posso cucinare Qui no Come sta venendo questo olio? Buono buono Allora cosa stiamo facendo? Stiamo togliendo l'aglio Togliamo l'aglio E lo buttiamo perché se Giancarlo lo mangia io devo scappare da tavola Abbiamo tagliato i pomodorini dopo 8 anni e mezzo Ok Stizza un po' Stizza un po' Stizza un po' Facciamo vedere Il dolino si deve cuocere ben bene Bello, con i frizzi E lo giriamo un po' Giro anche io così, non puoi dire che io non ho fatto niente Ma comunque io non sono male a cucinare, devo dire la vedo la sombra Non a Napoli Mettiamo un cucchiaino di sale Dai per vedere questo movimento magico La fame È giro, no? Sì Sì Dai mamma, dici? Facciamo vedere che questo sughetto è quasi pronto Mmm Sta venendo una bellissima cremina In frattempo abbiamo messo l'acqua a bollire Ovviamente salatela Il pomodorino è ufficialmente pronto Quindi lo lasciamo in caldo Allora buttiamo la pasta La pasta Non ho fame Mi stanno mettendo la pasta Vorrei dire sono le 22 e 27 Vai mangeremo, giuro Pasta scolata Vai Giriamo, mamma dice, con un bel fuoco La meraviglia Che fame che c'ho La nostra burratina in frattempo è stata tagliata Io metterò il basilico La marica non piace E ho messo la burrata Un po' di basilico Mi piace tanto, tanto basilico E tata Io aggiungerò il pepe perché mi piace Assaggiamo Mmm Buonissima Com'è? Finisco il mio piatto Provatela Buonissima Buonissima Buonissima